Anche il ridente comune di Saint-Gervais, famoso per le sue acque sul versante francese del Monte Bianco, è stanco delle migliaia di alpinisti della Domenica, che costringono i soccorritori ad un lavoro senza sosta. Adesso si prospetta un deposito di 15.000 euro, 10.000 per l'elisoccorso e 5.000 per la gestione della Salma, reclamabile a coloro che vogliono a tutti i costi avventurarsi verso la cuspide del tetto d'Europa. Parola del sindaco di Saint-Gervais. Tutti devono essere consapevoli che quando ci sono degli idioti che infrangono le regole, ci sono delle conseguenze, conseguenze umane per loro perché possono morire. Ma ci sono anche conseguenze per i soccorritori, che devono andare a recuperare il loro cadavere, oppure a salvarli. D'estate le frane sono all'ordine del giorno. Con la caduta massi il pericolo è enorme. Tuttavia ci sono gli riducibili che ignorano le raccomandazioni. In realtà Saint-Gervais vuole applicare ciò che è già in corso in Valle d'Aosta, dove l'elisoccorso per gli incauti costa 137 euro al minuto se non esistono reali conseguenze sanitarie. Questo non impedisce ai veri soccorsi di rimanere vigili, evitando coloro che mettono a rischio la vita degli altri e sfidano i divieti. Proprio come in Valle d'Aosta, quando i furbi vengono presi con le mani della marmellata. Beh, in Valle d'Aosta devono pagare. Anche con soluzioni come questa, le montagne possono diventare più sicure.